A Colonnella è tornata percorribile l'unica strada di accesso a Piazza Palazzo nel centro storico dopo la frana di un muro di contenimento registrata ieri mattina in Via della Paura. Lo smottamento si è registrato sul versante nord dell'antico borgo e ha interessato il terreno sottostante a un edificio religioso dove in passato era aperto un asilo d'infanzia. Immediato il lavoro del personale delle ruspe del comune per il ripristino completo della viabilità. Credo fosse doveroso intervenire immediatamente come abbiamo fatto. Abbiamo rimosso quello che era impedente il passaggio, però siccome la quantità di materiale caduto è abbastanza importante finiremo sperabilmente oggi anche con il taglio di alberi che sono pericolanti e così via. Speriamo veramente che tutto sia una parentesi chiusa entro la giornata. Una problematica scaturita dalle piogge degli ultimi giorni ma anche dalla secchezza del terreno. Le piogge sì sicuro sono una causa scatenante, il trigger, ma quello che è c'è anche la siccità perché quel terreno si è inaredito a tal punto che quando è arrivato un po' di pioggia, niente di particolare a dir la verità, è poi venuto giù. Le piante con la siccità si sono seccate e quindi anche quello ha acuito. Per fortuna in quel momento non vi erano persone o auto in transito. Per un paio d'ore tutti i residenti della zona sono stati isolati. Bisogna intervenire così come stiamo facendo a tappare le situazioni che emergono via via nella speranza che insomma il tutto ritorni ad una normalità come da un po' di tempo anche dal punto di vista climatico non è più tale. Ma per monitorare tutta l'area e il comune effettuato diversi sopralluoghi, ovviamente bisognerà ora provvedere alla messa in sicurezza del costone. Proprio ieri con il nostro tecnico sono andati a visitare un po' le zone a rischio. Noi abbiamo fatto un grosso lavoro sui fossati, sulla pulizia di cunette, lavori che non si vedono normalmente ma che certamente in questo contesto hanno aiutato a non avere altri problemi. Però insomma sinceramente dire è tutto tranquillo, non capiterà nulla. è da imprudenti certamente e anche da non buon padre di famiglia perché sappiamo tutti come vanno anche queste cose.